ciao riprendo questo disegno solo per avere qualcosa da vedere per parlare di questi altri due modifier che sono fratelli diciamo semplifica e suddividi semplifica adesso lo sto applicando all'oggetto green pencil che si chiama fondo che come vedete non è la palla col pavimento ma sono solo questi elementi le nuvole e i sassi semplifica serve a ridurre il numero di punti nel disegno e a varie modalità di funzionamento in particolare questa poi fissa più alziamo questo numero più i punti vengono ridotti e ovviamente ad un certo momento il disegno cambia completamente quindi questo è un modo molto veloce per semplificare il disegno e quindi se ci sono troppi punti per esempio le performance sono scarse potete usare questo metodo fixed è molto forte e quindi diciamo come vedete cambia di molto il disegno è diventato spigoloso può essere anche questo un modo per stilizzare un disegno adattativo è un po più gentile e c'è un fattore e quindi anche qui diciamo dipende da quanto lo si alza sample questi diciamo permettono di semplificare mantenendo maggiormente l'aspetto originale in pratica qua con la lunghezza si determina qual è la lunghezza diciamo massima entro la quale lui rimuove tutti i punti e li trasforma in segmenti merge mette vicino i punti che sono al di sotto di questa distanza quindi sono tutti algoritmi diversi ma il loro scopo è rendere il disegno più semplice in alcuni casi possono essere utilizzati appunto per per stile per rendere il disegno appunto spigoloso se ci piace perché dico che è fratello di subdivide perché subdivide fa esattamente l'incontrario cioè aggiunge punti quindi più aumento fate attenzione che ovviamente una subdivisione significa che tra due punti ne viene creato un terzo se faccio due subdivisioni tra due punti ne viene creato un terzo e tra ognuno di loro due un altro e quindi due punti diventano cinque quindi si sta poco ad aumentare molto il valore e potete anche scegliere il tipo di subdivisione e questa sarà familiare a chi usa il subdivision surface nelle mesh però magari messo insieme al semplifica ci permette di creare una specie di smooth se ci fate caso quindi il primo semplifica questi sono i sassi e le nuvole il primo semplifica li rende molto più spigolosi dopodiché però ci metto delle suddivisioni ed ecco che tornano a diventare morbidi solo che hanno una forma diversa quindi può essere un metodo può bastare anche meno per per creare uno smooth comunque esiste anche l'apposito modifier smooth che avevamo visto insieme a thickness che appunto ha un comportamento simile però ecco perché sono fratelli diciamo semplifica toglie punti suddivide aggiunge punti semplifica è il classico modifier che volete applicare ad un certo punto perché siccome rende il disegno più leggero quindi appunto per esempio scelgo sample quando trovo la misura giusta che mi permette di mantenere l'aspetto del mio disegno comunque piacevole però ho ridotto di molto il numero di punti andare ad applicarlo mi permette di ridurli davvero e quindi di aumentare le prestazioni dell'animazione perché vengono rimossi tutti i punti inutili e ovviamente potete anche farlo più volte quindi il semplifica potete applicarlo in un caso e poi tenerne ancora degli altri insomma come al solito sta a voi decidere però il vantaggio è che dopo aver semplificato se avevate dei problemi di prestazioni il disegno diventa più veloce per esempio adesso vado sulla palla notate che c'è time offset che l'avevamo usato quella volta se aggiungo il modifier semplifica magari lo metto prima di time offset e in questo caso vediamo adattativo la palla ecco vedete così si è semplificata moltissimo poi metto un suddividi e la palla è tornata abbastanza tonda non solo il disegno diventato più leggero da un punto di vista delle prestazioni ma è anche diventato più morbido cioè se li disattivo posso vedere che la mia palla non era disegnata particolarmente bene facendo così diventa più morbida e quindi magari più carina come ho detto il modifier smooth può avere lo stesso scopo però tende anche a rimpicciolire vedete a rimpicciolire il disegno mentre invece l'accoppiata simplify subdivide evita un po' questo fattore vedete avendo applicato smooth la palla non tocca più terra mentre prima la toccava semplicemente perché si è rimpicciolita l'accoppiata semplifica suddividi di solito riduce questo effetto grazie e alla prossima